Tribunali rustici hanno addosso fetori di stalla e di sudore di latte acido e di concime le mosche ronzano sotto il soffitto bianco dalla porta aperta si sentono cantare i galli su una specie di palco rialzato si stende una lunga tavola coperta di un tappeto verde un uomo vecchio scrive seduto all'estremità sinistra un gendarme rigido sulla sedia a destra guarda per aria e sul muro nudo un grande cristo di legno contorto in un atteggiamento doloroso sembra offrire la sua eterna sofferenza a questi contadini emananti sentori di bestie finalmente arriva il pretore è ventruto rubizzo e fa sventolare col suo passo rapido di uomo grasso che apre mura la toga nera di magistrato siede si posa il tocco sulla tavola e guarda i presenti con un'aria di profondo disprezzo è un letterato di provincia e un bello spirito di circondario uno di quelli che traducono razio gustano le poesiole di voltaire e sanno memoria ver ver e anche le poesie galanti di parnì volto all'usciere comanda via signor portel chiamate le cause poi sorridendo mormora quid quid tentabam dicere versus erat l'usciere alzando la fronte calva cantilena con voce inintelleggibile victuar bascul contro isidor paturon una donna enorme si fa avanti una signora di campagna una di quelle signore di capoluogo di cantone con un cappellino a nastri una catena d'orologio sul ventre anelli alle dita boccole alle orecchie luccicanti come candele accese il pretore la saluta con una strizzatina d'occhi di conoscenza nella quale trapela l'ironia e dice signora bascul esponete la vostra querela la parte avversa si tiene dal lato opposto è rappresentata da tre persone in mezzo un giovane contadino di venticinque anni dal viso tondo come una mela e rosso come un rosolaccio alla sua destra sua moglie giovanissima magra piccolina simile a una gallina della cayenna con una testa minuta e piatta su cui si erge come una cresta una cuffietta all'occhio rotondo stupito incollerito che guarda di lato come quello dei volatili a sinistra del giovane sta il padre di lui vecchio curvo il corpo contorto che scompare in un camiciotto pesante come sotto una campana la signora bascul spiega signor pretore 15 anni fa ho raccolto questo giovanotto l'ho allevato e amato come una madre ho fatto di tutto per lui ne ho fatto un uomo lui mi aveva promesso mi aveva giurato di non lasciarmi mai me lo ha scritto anche in un documento in cambio del quale gli ho regalato un podere la mia terra di bec de mortin la mia terra di bec de mortin che vale 6.000 franchi ed ecco che una cosettina una piccola sborfiosa una robetta da quattro soldi il pretore moderatevi signora bascul la signora bascul una piccola una piccola mi intendo gli ha fatto girare la testa e non so che diavolo gli abbia fatto no non so e l'ha sposata quello sciocco quel bestione e le ha portato in dote il mio podere di bec de mortin no caro no no ti ho un documento una carta eccola che lui mi renda il mio podere allora noi abbiamo fatto un atto dal notaio per il podere e un atto privato per l'amicizia l'uno vale l'altro ad ognuno il suo diritto non è vero porge al pretore una carta da bollo spiegata Isiduart Paturon non è vero il pretore silenzio tacete parlerete quando sarà il vostro momento legge io sottoscritto Isiduart Paturon prometto con la presente alla signora bascul mia benefattrice di non mai lasciarla per tutta la vita e di servirla con devozione Georgesville il 5 agosto 1883 c'è una croce per firma non sapete scrivere? Isiduart no per niente siete voi che avete fatto questa croce? no non sono stato io chi l'ha fatta allora? è stata lei siete pronto a giurare che non avete fatto questa croce? Isiduart con precipitazione sulla testa di mio padre di mia madre di mio nonno di mia nonna e del buon dio che mi sente giuro che non sono stato io alza la mano e sputa di lato per dar forza al suo giuramento il pretore ridendo quali erano i vostri rapporti con la signora bascul qui presente? mi è servita come avviamento il pretore moderate le vostre espressioni volete dire che le vostre relazioni non erano così pure come lei vorrebbe far credere vero o no? Paturon padre prendendo la parola non aveva ancora 15 anni 15 anni il signor pretore quando me lo ha corrompiuto il pretore volete dire corrotto? cosa ne so io? so che non aveva ancora 15 anni ed era già da 4 anni che lo allevava con raffinatezze che lo ingrassava come un pollastro fino a farlo scoppiare con licenza parlando poi venne il momento che gli sembrò maturo e me lo ha deportato il pretore depravato e voi avete lasciato fare? il padre quella lì o un'altra tanto bisognava pure che la cosa succedesse il pretore e allora di che cosa vi legnate? voi? di niente io non mi legno di nulla io ma c'è soltanto che lui non la vuole più ed è libero di farlo o no? io domando la protezione della legge la signora Bescu questa gente mi opprime di bugia il signor pretore io ne ho fatto un uomo il pretore caspita la signora Bescu e lui mi rennega mi abbandona mi ruba il potere Isiduar non è vero il signor pretore io volevo lasciarla già cinque anni fa visto che era troppo ingrassata non mi piaceva più ma poiché piangeva come una grondaia e mi promise il potere di Bec de Mortin purché restassi ancora con lei qualche anno non più di quattro o cinque le dissi di sì cosa avreste fatto voi? io sono rimasto altri cinque anni giorno per giorno ora per ora ero pari valeva il podere quel che le ho fatto la moglie di Isiduar muta sull'ora grida con una voce stridula di pappagallo ma guardatela guardatela signor giudice questo ammasso di lardo e ditemi se doverla montare non valeva il podere trompadre scotendo il capo con aria convinta perdinci valeva e come la signora Bescu si lascia cadere sul banco che le sta dietro e si mette a piangere il pretore paterno che cosa volete cara signora io non posso farci nulla voi gli avete regalato il vostro podere di Bec de Morten con atto perfettamente regolare è suo adesso assolutamente è suo lui aveva il diritto incontestabile di fare ciò che ha fatto e di portarlo in dote a sua moglie io non posso entrare nelle questioni delicate non posso esaminare i fatti non posso esaminare i fatti che dal punto di vista della legge non posso farci nulla patrón padre con voce fiera possiamo andarcene il pretore certo i patrón se ne vanno sotto gli sguardi di simpatia dei contadini come persone che hanno vinto la causa la signora Basculi invece si inghiozza seduta al suo posto animo signora rimettetevi e se posso darvi un consiglio vi consiglio di cercare un altro un altro allievo la signora Basculi fra le lacrime non ne troverò no no il pretore mi duole non potervene indicare uno e la dà uno sguardo disperato verso il Cristo doloroso e torto sulla croce poi si alza ed esce a piccoli passi si inghiozzando per il dolore e nascondendosi il viso nel fazzoletto il pretore volgendosi verso l'usciere con voce canzonatoria calipso non poteva consolarsi della partenza di ulisse poi con voce grave chiamate altre cause l'usciere con la solita cantilena celestine delasher contraprosper della fia con la solita cantilena di ulisse con la solita cantilena con la solita cantilena